ciao bambini oggi vi farò vedere come fare le bottigliette colorate di sale allora cosa ci vuole ci vuole un cucchiaino una bottiglietta un imbuto i gessetti colorati e il sale e poi un piatto di plastica allora iniziamo a prendere il sale poi prendiamo il gessetto e via quando è ben colorato mettiamo qua prendiamo la bottiglietta l'imbuto e cominciamo a riempire la bottiglietta poi possiamo anche spostarlo un po così dagli delle forme diverse e adesso scegliamo un altro colore iscriviti al canale ecco bambini e adesso andate avanti scegliendo tutti i colori alternandoli bambini mi raccomando dopo non muovete più la bottiglietta non scuotete la più perché se no i colori dopo si mischiano man mano che si riempie dovete alzare l'imbuto una volta pieno bambini dobbiamo pensare di chiuderlo e di fare il tappo allora servono delle candele e l'accendino per fare questa cosa però ci vuole un adulto mi raccomando bambini non fatelo voi ci vuole un adulto accendiamo la candela e iniziamo a far scendere la cera per chiudere la bottiglietta e fare una specie di tappo vedete che piano piano la bottiglietta si riempie di cera ed ecco bambini la bottiglietta di sale colorato è terminata ciao bambini buon lavoro ciao ciao Grazie a tutti.